Autostrada del sole Autostrada del sole Autostrada del sole Avremmo potuto investirne in bond libici Ma puntiamo sui sociali Baglier, il free press che non pone limiti all'avanzamento della civiltà Potete trovare Baglier al Frida Cafe o in Bicocca E se andate su Facebook potete diventare amici di Baglier Milano Baglier, il free press che non pone limiti all'avanzamento della civiltà Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti